L'arrivo dei risultati ufficiali non fa che confermare quanto era già chiaro nei fatti la vittoria alle legislative in Tunisia del partito laico moderato Nida Tunesh. 85 seggi sui 217 dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo sono andati alla formazione fondata dall'avvocato ex primo ministro Bejikeide Sebsi. Un margine di distanza limitato ma significativo rispetto al partito islamico Ennada che si aggiudica a 69 deputati l'esito del voto viene interpretato come un segnale positivo per la neonata democrazia tunisina che sembra intraprendere il cammino dell'alternanza. Resta ora aperto il grande interrogativo delle alleanze per la formazione di un esecutivo dal momento che Nida Tunesh non ha i numeri per governare da sola al momento esclusa l'ipotesi di una coalizione tra le due principali formazioni.